Amici di The Box Network siamo qui a Misano in questo storico circuito per seguire la nuova tappa della moto E. È ovviamente 100% elettrica ma non pensate che non sia emozionante guidarla ragazzi. Questa ecocorsa va da 0 a 100 in 2,8 secondi e può raggiungere una velocità massima di 270 km orari e una coppia di 200 Nm. È super divertente, stiamo andando molto ma molto più forte di quello che noi a detti lavori ci saremmo mai aspettati, addirittura in Austria più forte delle moto 3 non ci stiamo togliendo niente, stiamo andando forte e ci stiamo divertendo come si fa di solito con le moto normali. Insomma ci sono tutta una serie di messaggi che devono passare e che sono simili a quando dal telefono fisso siamo passati al telefonino. A questo momento siamo alle spalle dell'IPADDOC dove i tecnici stanno facendo gli ultimi ritocchi in vista della gara di oggi pomeriggio. Questa invece alle mie spalle è una Juiz Pump, è l'unità di ricarica fornita da Enel X, partner della moto E, che serve a ricaricare le moto da corsa tra una sessione e l'altra del fine settimana. Noi non forniamo solamente un'infrastruttura di ricarica, noi forniamo tutto un ecosistema perché in moto E forniamo i caricatori, forniamo i container che ospitano i caricatori e forniamo gli trolley che sono dei power bank da portare in pit lane e starting grid per alimentare le termocoperte. Dopo le qualifiche di ieri in cui Alex De Angelis ha conquistato la polla, in questo sabato si svolgerà la prima gara, ore 16, tutti in pista. Tanti protagonisti ci si aspettano con un sacco di colpi di scena perché il campionato è ancora completamente aperto e abbiamo i due piloti, i vincitori delle prime due gare, che sono caduti in qualifica quindi partiranno dal fondo e rischiano di giocarsi tutto il campionato. Prima volta che vedevo qualcosa del genere ed è assolutamente una bellissima esperienza da fare. Per noi questo qui è un banco di prova importantissimo perché se riusciamo a dimostrare di essere bravi qua, riusciremo a dimostrare tra due anni di essere i migliori sulla strada. Si è conclusa adesso la quarta gara della Moto E, un fine settimana strepitoso per Matteo Ferrari che ha conquistato anche questa vittoria. Il pilota rimedese adesso allunga ancora di più nel campionato peccato invece per Alex De Angelis che nonostante la pola è caduto anche in questa tappa. Le emozioni elettriche non finiscono qui ragazzi perché noi ci vediamo per la Moto E a Valencia per la quinta e sesta gara che chiudono la stagione ma ancora prima non mancare a Francoforte ci vediamo settimana prossima per lo speciale del Salone dell'Automobile. A presto, iscrivetevi e mettete like. Ciao!